Si alza il sipario sul festival internazionale Castel dei Mondi di Andria. La kermesse teatrale, evento di punta di fine estate, in programma sino all'11 settembre, si è aperta oggi con un'opera dell'artista australiana Amanda Parer, conosciuta in tutto il mondo per le sue colossali creazioni di arte pubblica. Si intitola Man e con i suoi 13 metri di altezza per 13 di lunghezza dominerà Piazza Catuma sino al 5 settembre. Un'imponente installazione luminosa ispirata alla famosa scultura in bronzo Il Pensatore, realizzata dal francese Auguste Rodin nel 1880 e conservata nel museo che porta il suo nome a Parigi. Rappresenta un uomo intento in una profonda meditazione. Un'opera gigantesca che esplora la fragilità umana ed invita ad una riflessione sui nostri tempi e sugli effetti che le aspettative irrealistiche e spesso dannose della società attuale hanno sul mondo. Un pianeta abitato da uomini ormai sopraffatti e costantemente impegnati a trovare soluzioni a problemi che loro stessi hanno creato. La prima giornata del festival Castel de Mondi si concluderà con lo spettacolo serale dal titolo Confini Disumani della compagnia Equilibrio Dinamico Dance Company. Sul palco sette danzatori guidati dalla coreografa Roberta Ferrara daranno vita ad una performance ispirata al testo Solo Andata di Henry De Luca. Un lavoro intenso e toccante che porta lo spettatore a riflettere sul mancato valore etico e morale dell'essere umano. L'appuntamento è alle ore 21 e 15 a Palazzo Ducale.